Come si vede non basta una cravatta, non basta una conferenza stampa, non basta qualche coccola o qualche pacca sulla spalla, non basta la retorica della giovane età. Ci vuole molto di più per combattere e capovolgere il segno delle politiche di austerity, ci vuole una forte determinazione ad abbattere il muro di Berlino, ad abbattere la supponenza delle politiche che la signora Merkel ha imposto all'Unione Europea e ad abbattere quell'altro muro che è costituito da un potere sovraordinatore che non ha nessuna legittimazione democratica. La troica che cos'è? È il Fondo Monetario Internazionale più la Banca Centrale Europea più la Commissione Europea che possono decidere che i popoli d'Europa non possono esercitare alcuna sovranità. Alexis Zipras vince, vince ed è una fortuna per l'Europa che non vincano quelli di Alba Dorata, che non vincano i populisti che teorizzano la deflagrazione dell'Europa, è una fortuna che non vincano gli anti-europeisti, i nazionalisti, xenofobi, razzisti, nazisti, fascisti che pullulano in tutto il vecchio continente. Vince un programma di critica radicale dell'austerity, un programma di buonsenso sostenuto da tanti premi Nobel dell'economia che dice che tagliare la spesa sociale quando c'è la crisi economica è puramente demenziale perché non si esce dalla crisi impoverendo il ceto medio, non si esce dalla crisi mettendo sul marciapiede milioni di uomini, di donne, di anziani, di bambini impedendo l'esercizio del diritto alla salute o del diritto alla scuola. Sono parole di buonsenso che con grande solennità ha detto il presidente Barack Obama, proprio citando la Grecia che non può essere più spremuta, perché salvare un paese uccidendolo è un non senso.